Sarà difficile, anzi del tutto improbabile, vederli tutti in un unico complesso scolastico gli allunni del liceo Nolfi Apolloni sfollati dalle loro aule a seguito degli esiti negativi delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate dai tecnici della provincia. Questo desiderio era stato espresso attraverso un documento divulgato agli organi di stampa dai docenti del liceo dopo una animata assemblea tenutesi nei locali della palestra Carducci nella quale avanzavano quattro richieste ben precise tra cui appunto quella di non sparpagliare gli studenti in più plessi. Ma il modello da applicare è quello perseguito dall'alberghiero nella precedente vicenda quindi si stanno valutando con sopralluoghi e verifiche gli istituti dove ospitare le classi sfollate in almeno tre se non quattro location diverse. Apolloni, Battisti, Olivetti, papabili istituti destinati ad ospitarli sicuramente quelli che erano all'ex Carducci anche se si stanno vanultando Gandilio, Nuti e Padalino per avere a disposizione una griglia completa delle opportunità praticabili. Per quelli del Nolfi circa un terzo sarà sufficiente però aspettare il 30 settembre per poter rientrare nelle loro classi come recita l'ordinanza numero 45 messa dal sindaco nella giornata odierna al termine dei lavori di somma urgenza predisposti dall'ufficio scolastico provinciale. Destino diverso per i loro colleghi invece urbinati che saranno destinati a seguire le elezioni nei due anni successivi necessari alla costruzione della nuova scuola Raffaello in appositi prefabbricati in attesa della costruzione dei quali anche loro verranno sparpagliati nei locali di altri istituti cittadini con la collaborazione dell'ERDIS, della Curia e dell'Università Carlo Bo. Anche per loro inizio anno scolastico posticipato di qualche giorno. Intanto parallelamente all'emergenza in provincia si sta programmando anche l'intervento a lungo termine tenendo un consiglio provinciale straordinario nella giornata di ieri per fare il punto della situazione. Il presidente della provincia Giuseppe Paolini ha annunciato che sono state presentate in giornata al MIUR le schede di partecipazione al bando Sisma 120 che finanzia con un massimo di 5 milioni di euro per ogni edificio scolastico interventi per la messa in sicurezza ed adeguamento antisismico e costruzione ex novo di edifici pubblici da adibire ad uso scolastico con l'obiettivo dice la provincia nell'arco di un paio di anni di costruire nuove sedi per studenti e personale scolastico del Nolfi ex Carducci e del Raffaello di Urbino. Intanto domani 12 settembre nuovo vertice in provincia con le decisioni che verranno prese dopo i sopralluoghi e le verifiche effettuate in queste ore.